Nicola benvenuto ben trovato grazie per averci accordato il tuo tempo senti per preparare questo confronto noi ci siamo conosciuti però in favore di chi ci segue per la prima volta dici chi sei e cosa fai di mestiere qual è la tua missione allora io mi chiamo Nicola Pasquali e sono il responsabile IT di Mediaprofili perfetto senti Mediaprofili che tipo di azienda è e soprattutto che rapporto ha storicamente con l'innovazione digitale tecnologica noi siamo nati nel 1982 siamo un'azienda della filiera del mobile quindi l'idea imprenditoriale iniziale è stata quella di supportare la nostra industria con innovazione e servizi personalizzati lo stesso spirito che ha fatto crescere questa azienda fino ad oggi fino a farla diventare un leader di mercato ci siamo adattati in modo proattivo a un mercato in rapida evoluzione abbiamo continuamente migliorato i nostri processi produttivi abbiamo sviluppato nuovi materiali e tecnologie e ampliata la nostra gamma di prodotti per fornire ai nostri clienti soluzioni di produzione della migliore qualità ed economicamente vantaggiose oggi Mediaprofili è il partner di riferimento di primari clienti del settore proprio grazie a questa innovazione che abbiamo portato e piccola quando dentro questo percorso e dentro questa sensibilità verso l'innovazione però vi siete resi conto che a livello di tecnologia e siti avevate bisogno di un cambio di passo c'era qualcosa che non funzionava semplicemente eravamo alla ricerca di una soluzione di avanguardia una soluzione che fosse veloce che fosse flessibile e resiliente e potesse assecondare i nostri processi produttivi e siamo finiti qui proprio per questo senti siete finiti qui e in questo in questo percorso dove come l'approccio il supporto di tv sinex e professional software è stato importante in cosa vi hanno aiutato hanno aiutato seguendoci sin dall'inizio nella scelta dell'infrastruttura più idonea ai nostri bisogni portando la competenza necessaria e aggiungendo tutti i servizi richiesti dell'azienda della nostra dimensione il supporto e dal partner è stato molto importante di ci regali qualche qualche dettaglio in più su questo progetto di che pasta è fatto infrastruttura è composta da due di hsi ai in realtà di loro il di hsi ai è composto da due nodi pro liant switcher melanox e nambor hybrid questa è la nostra infrastruttura e di dentro questa scelta e ci racconti perché avete optato anche soprattutto per una piattaforma come hp e green lake perché avete fatto questa questa scommessa perché di lei che è agile e flessibile unisce i punti forti dell'offerta ormai quindi sovranità del dato bassa latenza e infrastruttura dedicata e con quella offerta cloud cioè flessibilità scalabilità un canale mensile fisso che ovviamente anche l'aspetto economico è importante un po un po lei l'hai anticipato ci regali qualche vantaggio in più ci racconti qualche vantaggio in più che proprio la scelta di green lake vi ha portato proprio immediatamente ma il vantaggio è stato di avere un sistema pressibile un sistema che possiamo maneggiare con la nostra struttura e ci ha consentito di raggiungere i risultati all'avanguardia nella gestione della nostra attenzione senti Nicola e adesso adesso dove dove volete arrivare con questa architettura e grazie al supporto di professional software e tdcnex ma il nostro obiettivo è arrivare ad essere i migliori fornitori per i nostri clienti quindi questo significa crescere il nostro mercato e essere un riferimento per tutti nel nostro mercato questo per noi è molto importante Nicola siamo arrivati alla fine di questo confronto brevissimo ma molto intenso secondo te chi ti ha seguito fino a qui che cosa si porta a casa cosa ha capito ha capito che siamo un'azienda importante che siamo un'azienda riferimento nel nostro settore ed ha capito che siamo un'azienda con la quale si può lavorare bene e che con la quale si possono raggiungere ottimi risultati per avere una reciproca soddisfazione e quella che avete ascoltato è la storia di Nicola di media profili che grazie al supporto di professional software e tdcnex ha cambiato passo si sta muovendo veloce verso la trasformazione digitale Nicola grazie mille avanti tutta grazie anche a voi